Ho appena trovato in vendita questo bel pack con tre birre chimè, una bella confezione che sembra tanto natalizia nonostante siamo in piena estate e faccia caldissimo e ho pensato quindi di degustare delle tre la chimè blu. Allora, vediamo subito la scheda tecnica e poi direi di spendere due parole su questa confezione e fare come il peggiore youtuber 15enne, 12enne, l'unboxing delle birre. Allora, la chimè blu, ovviamente il produttore è chimè, siamo in Belgio per essere precisi, Notre Dame de Scourmont è la Abbazia dove i monaci cisterciensi brassano con l'aiuto di operai laici la famosa birra chimè, il nome di questa birra è chimè blu, infatti è caratterizzata da etichette tappo blu. Lo stile è tecnicamente indicato come Belgian Strong Dark Ale, infatti la più alcolica delle 3 più 1, perché in realtà sono 4 le chimè in produzione oggi, è la più alcolica, infatti 9 gradi, è il volume alcolico. Il costo delle bottiglie. Allora, le bottiglie le trovate a prezzi anche molto contenuti anche nei supermercati. In realtà io appunto ho acquistato questo pack a 9 euro e qualcosa, ma circa 10 euro per il pack completo di 3 bottiglie più la coppa scimè. Il bicchiere che vi suggerisco è proprio la coppa scimè, o in alternativa direi le coppe trappiste classiche. Se non avete neanche quelle, secondo me per queste biere vanno benissimo, i bicchieri a tulipano anche. E non si tratta di un primo assaggio. Allora, come dicevo, ho appunto trovato in commercio questo pack con 3 bottiglie e la coppa. Ora ho tirato fuori già la blu per metterla in frigorifero, perché temperatura di servizio consigliata è tra i 10 e i 12 gradi. Sul retro, tra l'altro, ci sono indicate le diverse temperature di tutte e tre le bottiglie. In effetti per la rossa e la blu, che sono la double e la strong, dark air consigliano su 12 gradi i produttori, mentre per la bianca, che è una triple, viene consigliata una temperatura leggermente più bassa, intorno ai 6-8 gradi centigradi. Come dicevo, la blu è quella che ho tirato fuori. Ho scelto di bere la blu semplicemente perché delle tre è quella che mi piace di più, ma sono buonissime anche le altre, ovviamente. Inutile che lo stia a ricordare. La bianca è una triple, mentre la rossa è una double, quindi con un grado alcolico un po' più basso. Mancherebbe la quarta, perché da qualche anno Chimè commercializza anche la Chimè d'Oré, che è una birra con un grado alcolico molto più contenuto, che fino a pochi anni fa era riservata per un consumo interno. Non è Chimè l'unica bazia che ha in linea una birra con un certo tasso alcolico, ma per il consumo interno dei monaci è presente una birra con un tasso più contenuto. Per esempio, mi viene in mente Orval, ma la birra dei monaci di Orval non è in vendita praticamente, se non in un piccolo caffè vicino alla bazia. Detto ciò, tornando però a Chimè, appunto c'era questo bel pack in vendita. Ho tirato fuori già la bottiglia blu per metterla in frigorifero, mentre apro, adesso tiro fuori anche il resto. Ovviamente avevo già tirato fuori anche il bicchiere che utilizzerò per lavarlo, perché figuriamoci poco andriaco come sono se lo utilizzerei sporco. Quindi ci sono all'interno appunto anche la Chimè, mettiamola qui davanti, la Triple, e la rossa. Ok, ho fatto un po' fatica perché ci sono questi fori per bloccare i tappi delle bottiglie. Ma il pack è molto interessante, secondo me appunto è perfetto per il periodo di Natale, per fare un bel regalo. Però appunto fa caldissimo, fuori ci sono più di 31 gradi in questo momento, e quindi la birra sbagliata da bere col caldo forse è sicuramente la più forte delle tre, però appunto volevo bere quella che mi piaceva di più, è rimasta un po' d'acqua perché l'ho appena lavato, volevo bere appunto quella che mi piaceva di più e delle tre è la blu. Tutte le birre della linea di Chimè sono uguali come forma della bottiglia. Etichetta e tappo cambia il colore di fondo, appunto blu, bianco, rosso, e la Doré è praticamente molto simile alla bianca, semplicemente il colore è leggermente giallino, o panna, comunque è molto simile come fondo a quello della bianca. L'etichetta appunto sono simili, viene riportato ovviamente frontalmente il logo Chimè, l'anno di produzione della birra, in basso c'è bandiera del Belgio e logo esagonale, autentico prodotto trappista. Cosa interessante, la bottiglia ha in rilievo la scritta Abazia di Scourmont, che è appunto l'abbazia dove viene prodotta questa birra. Sulla abazia di Chimè vorrei fare una puntata a parte e piccola parentesi, siccome fra un mesetto circa andrò a fare un giretto in Belgio, in particolare l'abbazia di Chimè e di Orvale, vorrei fare una puntata dedicata a quei luoghi, registrando un video sul post, sul post appunto quindi ciò che c'è da dire diciamo sulla abazia secondo me, lo lascerei per una puntata specifica e pensavo di fare questo video solo soltanto sulla degustazione di questa Chimè e su questo bel pecca che ho trovato appunto settimana scorsa in un cash and carry, se vi va vi lascio anche in descrizione l'account, il mio account instagram, così se dovesse andarvi mentre sono lavoro e fare un bel report fotografico e in particolare appunto dell'abbazia di Chimè, Orvale e poi andrò anche a visitare Vesfleteren. Vesfleteren non si può visitare né l'abbazia, né il bierificio né niente, però al fianco c'è il bierificio di San Bernardus che è un altro dei miei bierifici top e quindi andrò a visitare ovviamente anche quello sicuramente. Ma tornando alla Chimè blu, devo iniziare ad aprirla perché la temperatura si sta già alzando molto. Allora adesso c'è già un pochino di fondo, non l'ho verso semplicemente per avere un'analisi migliore della birra, ma successivamente, fatta diciamo la prima analisi sensoriale, si può scegliere appunto come al solito di versare oppure no il fondo con i lieviti, oppure degustare i lieviti a parte nell'apposito bicchierino. Complice forse anche il ventilatore che sta dietro la telecamera, mi sta già arrivando un profumo di lievito fortissimo, dovrò cercare di rimanere concentrato e non emozionarmi troppo da questa ventata di belgio che mi sta investendo la faccia. Passando quindi all'analisi visiva, una schiuma molto fine, con una texture molto regolare, abbastanza persistente, mentre il colore della birra è, questo è quello che viene chiamato in maniera molto classica, la tonaca di frate, il colore tonaca di frate, in realtà è, se vogliamo guardare bene, un colore bruno, colore direi mogano, per rifarsi un po' ai termini utilizzati nelle valutazioni, nelle competizioni. Ci sono però, guardandolo contro luce, o meglio con la luce dietro al bicchiere, ci sono dei bellissimi riflessi rossi, la birra è molto scura ma è molto limpida, perché infatti si vede bene già un'elevata carbonazione, quindi non è torbida la birra, nonostante il colore è molto scuro appunto. Passiamo all'analisi quindi olfattiva. Beh, è una delle birre ovviamente che sa tanto di Belgio, secondo me che ci ricorda tantissimo questi stili qui tradizionali della cultura appunto brassico alla belga. C'è sicuramente un buonissimo profumo di lievito, che va anche un po' verso il pane, c'è anche un buon profumo di caramello. Da queste informazioni già ci aspettiamo sicuramente una birra abbastanza dolce e ci aspettiamo una birra molto invernale, molto natalizia, che poco appunto, come dicevo prima, sembrerebbe essere adatta a questo periodo, ma il mio almeno amore per il Belgio va oltre i limiti imposti dal clima e quindi ho dovuto bere questa birra anche se la temperatura esterna è così calda. Beh, come ci aspettavamo appunto una birra con un'apertura piuttosto dolce, con le stesse cose che abbiamo sentito anche con il naso, quindi il caramello, c'è ovviamente tanto malto, c'è anche una piccola, secondo me, parte di malto tostato e non saprei dire se è malto tostato o un leggero, leggero finale di liquirizia, che è un po' tipico delle double, ma se li trova tanto anche in questa birra e praticamente il lupolo è leggero, leggero solo nella parte finale, ma davvero, sì, c'è del lupolo, ma non è l'elemento principale, sicuramente non è una birra che punta sul lupolo, ma ovviamente punta tantissimo sul malto. Altra cosa in bocca è questo corpo non così denso, ma comunque stiamo parlando di una birra con un ottimo corpo e un'elevata carbonazione, è molto frizzante questa birra e ricorda infatti tanto le quadruple sempre caratterizzate da questo colore, da questo aroma, con questo finale molto dolce, leggermente torefatto, leggermente liquirizia e spesso sempre molto frizzanti. Mi vengono in mente, appunto, che so, per stare nel panorama delle trappiste, la Rochefort, oppure la San Bernardus che ho nominato prima, la 12 ovviamente, la Vesveter ovviamente, insomma, siamo in quella categoria di birre. Sono andato un po' di corsa nel versare la bottiglia perché appunto si stava già scaldando e ho praticamente saltato tutta la parte riguardante l'estetica, comunque l'ho fatta in maniera molto molto riassunta. Una cosa che però mi piaceva aggiungere, che mi piacciono sempre le infografiche che ci sono sul retro della bottiglia, dove viene consigliata la temperatura di servizio, che dicevo, intorno ai 10-12 gradi, motivo per cui l'ho dovuta bere molto in fretta. E sto registrando adesso questa parte. Vengono indicati i bicchieri da utilizzare, o meglio, è ampiamente barrato il classico bicchiere a pinta, quella tipica della tradizione inglese, mentre viene indicata la coppa scimè, viene indicato anche la posizione della bottiglia, come va tenuta la bottiglia, barrata la bottiglia in orizzontale e indicata la bottiglia in verticale. Questa è una cosa importante perché soprattutto la scimmè blu, leggevo online, che è indicata come un'ottima birra da fare invecchiare. L'invecchiamento delle birre, ovviamente non tutti gli stili si possono fare invecchiare, tendenzialmente le birre, diciamo, un po' più lupolate, soprattutto le nuove IPA, nei IPA dry hopping eccessivi, eccetera, non sono ovviamente adatte all'invecchiamento, vanno consumate subito, meglio sento nei primi tre mesi. Molte invece birre della tradizione belga sono adatte all'invecchiamento. Cosa importantissima, se scegliete di fare invecchiare una bottiglia, è scegliere nella posizione orizzontale e verticale, in base al tipo di tappo e di chiusura che viene fatta. Come regola standard, se il tappo è metallico, in verticale, cosicché non avviene il contatto del liquido con la parte metallica, che seppur ricoperta ad apposito film plastico, potrebbe comunque dar luogo a ossidazioni metalliche, il che magari vi fa tenere la birra lì 4, 5, 6 anni, dopo c'è un minimo di ossidazione e il gusto è terribilmente compromesso, bisogna buttare via tutto. Altra cosa per i tappi in sughero, o quelle birre che magari hanno il tappo in alluminio, comunque in metallo, sopra, ma il sughero sotto. In quel caso invece è consigliato l'invecchiamento in orizzontale. Questo perché il sughero potrebbe negli anni ritirarsi leggermente, se troppo asciutto, mentre invece il contatto con il liquido dovrebbe garantire la tenuta del sughero, che quindi garantisce una chiusura ermetica e permette al liquido e soprattutto ai gas di non fuoriuscire. Per intenderci, birre famose che devono invecchiare molto, Orval, io ho alcune Orval che tengo qui per bere tra qualche anno, e sono ovviamente in verticale, però ho anche un paio di Goe's di qualche annetto fa ormai, e le voglio far invecchiare ancora, sempre per farle maturare, però avendo le Goe's di Ansen, tutto il tappino in sughero, ce le ho sdraiate proprio perché almeno il sughero resta bagnato, anche se non completamente in gran parte. Più o meno questa è la regola base. Sul retro infatti viene indicata questa cosa dall'infografica, comunque è scritta sia sul lato della confezione, che è la birra che può invecchiare, su internet trovate un sacco di persone che si divertono anche a degustarle negli anni, valutarne l'evoluzione. Il resto dell'etichetta riporta gli ingredienti, che sono acqua a malto d'orzo, zucchero, amido di frumento, luppolo, spezie e lievito. Interessante che amido di frumento, allora sempre per il solito discorso, che sono scritti gli ingredienti in ordine decrescente di quantità, amido di frumento è scritto dopo zucchero, quindi possiamo immaginare che la quantità sia piuttosto contenuta. È tra zucchero e luppolo, e in effetti anche di luppolo siamo abbastanza certi che la quantità è piuttosto contenuta. Spezie e lievito, quindi se non sapete aggiunto delle spezie. Io trovo sempre interessante andare a leggere gli ingredienti, perché per esempio, per capire se i caratteri molto speziati di certe birre sono dati dall'aggiunta di spezie, oppure, e mi viene in mente il caso di una delle mie birre preferite, che è la Saison Dupont, quella speziatura che emerge subito al naso è caratterizzata in quel caso non dall'aggiunta di spezie, non so, il coriandolo tipicamente viene aggiunto, il pepe in quegli stili, ma dall'utilizzo di un lievito, e il ceppo utilizzato dalla brassiere Dupont è famoso proprio per questo carattere speziato, per questo tono molto, appunto, caratterizzante delle spezie, e quindi in quel caso non vengono aggiunte, non che una cosa sia meglio o una cosa sia peggio, però, insomma, trovo interessante, se siete appassionati del mondo delle birre, o se magari fate le birre in casa, andare a capire se è un lievito che può dare quel tono speziato perché produce particolari composti fenolici, o se magari con il carattere speziato è dato proprio dal fatto che vengono aggiunte in fase di pollitura del mosto queste spezie. Direi che per oggi ho parlato abbastanza, prima che si scaldi completamente la birra, ora mi tocca finirla, e lo farò con gran piacere. Come dicevo, se vi dovesse interessare, vi lascio il link del mio account Instagram, perché appunto fra un mesetto circa ho pianificato questo tour per le Abazie del Berge, un tour molto spirituale, ovviamente, e mi riferisco ovviamente per spirituale al lato alcolico del viaggio. Questa era la scimè blu Skoll. Grazie a tutti! Grazie a tutti.